Con l'apertura così nel gergo viene definita la prima mossa in questo amatissimo sport affidata all'ambasciatore della Repubblica del Kazakistan in Italia, Yerbolat Sembaie, ha preso il via ufficialmente il campionato mondiale di scacchi cadetti di Montesilvano. Il Paladin Martin per 14 giorni sarà colorato e animato dalla freschezza di una folla tra ragazzi e bambini arrivati letteralmente da mezzo mondo. 726 giocatori, tutti tra 8 e 12 anni, divisi per categorie e genere di 82 nazioni diverse. Col via dell'arbitro e con una stretta di mano ricca di sportività, ragazze e ragazzi hanno iniziato la loro competizione, bianchi avanti nel silenzio che è consono agli scacchi, una gara sana e nel segno della fratellanza che peraltro vedrà impegnati anche atleti di paesi in conflitto tra loro come Russia e Ucraina. Roberto Mogranzini, maestro di scacchi e capo di Uniques, la società che ha organizzato l'evento. Una manifestazione di sport, ma credo anche di aggregazione, di socialità. È una bellissima cosa anche perché abbiamo diverse nazioni che purtroppo in questo momento sono in conflitto tra loro, ma qui i ragazzi si stringeranno la mano. Ancora una volta lo sport vince e gli scacchi vincono perché gli scacchi è una lingua comune, il motto proprio della FIDE, della Federazione Internazionale Gens Unasumus, siamo una grande famiglia e quindi penso che siano 14 giorni molto belli per tutti. Una manifestazione dall'indotto importante. In queste due settimane saranno 30.000 le presenze a Montesilvano per la grande soddisfazione del sindaco, Ottavio De Martinis. Un grandissimo evento di caratura mondiale del quale andiamo ovviamente orgogliosi e siamo felicissimi che questo nostro Paladino Marti, che è la nostra città, sia stata scelta dall'ennesima federazione per portare avanti una competizione così importante. Montesilvano capitare degli scacchi anche per il 2026, già fissato un nuovo campionato mondiale per quell'anno. Intanto questa sarà un'edizione da record, come evidenzia Adriano Tocco, consigliere comunale delegato al Paladin Martin, che insieme all'assessore allo sport Alessandro Pompei ha lavorato all'acremente alla manifestazione. Sono collegate in diretta ben 350 scacchiere. Cosa vuol dire? Vuol dire che il genitore del piccolo atleta indiano a casa, il papà può vedere la partita del figlio in diretta. Ci sono 10 telecamere collegate e quindi è un evento veramente storico.